buonasera sono patrizio garingi comandante di una unità di 38 metri san lorenzo questa sera volevo parlarvi di cmc per me cmc è sinonimo di sicurezza affidabilità e tecnologia uso sistemi cbc da qualche anno quando si parla di sicurezza e affidabilità è fondamentale avere margini di errori ridotto al minimo manovrare una nave e sapere di avere dei sistemi di manovra di cui ci si può affidare sapendo che nel momento di bisogno non ti mollono è fondamentale con la risultante che nave e persone a bordo sono in sicurezza tecnologia la cmc è sempre all'avanguardia con software che facilitano l'uso degli strumenti di controllo per ultimo e non meno importante l'assistenza cmc sa chi li conosce sa che in tutto il mondo sono sempre presenti io posso solo testimoniare e dire che in qualsiasi luogo e momento compreso giorni festivi mi hanno sempre assistito per cui consiglio a tutti i miei colleghi di usare sistemi cmc grazie e buonasera a tutti i miei colleghi stati